Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e questa vuole essere una guida introduttiva all'utilizzo dell'audio digitale nella didattica. Per audio digitale intendo quello che si intende normalmente con podcast, web radio. Naturalmente occorre anche un ambiente in cui i nostri file mp3, il nostro audio digitale, possa trovare collocazione. E questo ambiente è il web, che permette la pubblicazione e la distribuzione di quelle che possiamo definire trasmissioni o episodi. Finalizzato tutto questo ovviamente all'apprendimento, però qui l'apprendimento si intreccia strettamente con tante altre dimensioni. Per esempio in parte anche l'intrattenimento e ancora la costruzione dell'identità collettiva, la narrazione, la narrazione autobiografica. Per questo motivo cercherò qui di illustrare in modo introduttivo alcune premesse per poter utilizzare in modo efficace e consapevole l'audio digitale e la web radio nella didattica, cercando anche di introdurre i principali concetti tecnici, come quello di podcast per esempio, e mostrando anche degli esempi che si possono assumere come modello di utilizzo dell'audio nella didattica. Noi siamo abituati a pensare che la storia ha inizio con la scrittura, la rivoluzione della scrittura determina l'inizio della storia, il passaggio dalla pre-storia alla storia. Eppure, prima della scrittura abbiamo un'altra rivoluzione molto importante, abbiamo la rivoluzione della oralità. E se la scrittura inaugura la storia, la oralità inaugura le storie, cioè la dimensione narrativa. Quindi teniamo presente che la voce è una tecnologia tra le più antiche che l'essere umano abbia mai prodotto, e anche tra le più potenti e versatili. È senz'altro il più potente mezzo di comunicazione che noi possediamo, si presta a molti formi usi, con la voce possiamo fare tutto, dove fare, lo dico tra virgolette, nel senso che possiamo compiere anche azioni con la voce. La voce è in grado di implementare, per così dire, qualsiasi tipo di comunicazione, l'interattività, il dialogo, la descrizione, la narrazione, la cronaca, il racconto. La voce è uno strumento che non richiede l'uso di dispositivi particolari, non dobbiamo registrarci, non dobbiamo consultare complicati piani di abbonamento, non dobbiamo frequentare corsi di aggiornamento per usarla. Tutti sappiamo usare la voce, chi meglio, chi peggio, ma tutti sappiamo parlare. La voce è multimediale, possiamo esclamare, possiamo cantare, possiamo urlare. La voce è transdisciplinare, può essere usata in qualsiasi contesto per discutere di qualsiasi cosa e parlare e trattare qualsiasi argomento. La voce può essere analogica, grazie alla rivoluzione digitale, la voce però adesso può essere anche digitalizzata, e questo offre maggiori opportunità di diffusione, distribuzione, condivisione e interazione con gli altri. È ottima per qualsiasi tipo di obiettivo didattico, dallo storytelling al pensiero creativo, al pensiero critico, ma anche in ogni ambito disciplinare e transdisciplinare. Insomma, potremmo continuare a giocare in questo modo, trattando la voce e presentandola come le tecnologie e le applicazioni che utilizziamo normalmente sul web, ma in realtà la voce è una tecnologia, ed è una tecnologia che ha richiesto milioni di anni per essere sviluppata, e che richiede anni e anni per essere appresa quando siamo bambini. Yuval Noah Harari, in un suo bel libro da Animali ad Ebre, la storia dell'umanità, si sofferma su quella che lui chiama la rivoluzione cognitiva, che ha comportato un salto evolutivo per l'uomo, e che è collegata appunto al linguaggio, e soprattutto al linguaggio vocalico, e ha una particolare funzione del linguaggio, quella narrativa. Il linguaggio può servire per descrivere, per informare, per interagire, ma è solo con la capacità del linguaggio di creare finzioni, fiction, mondi che non esistono, parlare di cose che non esistono, e di condividere la credenza nell'esistenza di queste cose nell'ambito della dimensione narrativa, che la comunicazione orale diventa un supporto fondamentale per l'evoluzione. Pensiamo infatti ai gruppi umani. I gruppi umani, col contatto diretto, ma anche col linguaggio, possono interagire direttamente, e organizzarsi, cooperare tra di loro. Ma il contatto diretto e la comunicazione diretta impongono dei limiti alla grandezza del gruppo. Si pensi che, per esempio, un gruppo di 50 persone comporta 1225 rapporti bionivoci tra ciascuna persona e ciascuna altra. Quindi si pensi alla impossibilità di gestire più rapporti, anche con la voce, anche con la comunicazione vocale. Quindi la cooperazione su larga scala, che è ciò che ha accelerato in modo incrementale l'evoluzione dell'uomo, la sua capacità di inventare, di innovare, di commerciare, è legato alla creazione delle storie, perché le storie rendono possibile condividere regole, valori, norme, comportamenti, credenze, fissare un'identità collettiva, rendere possibile la comunicazione tra estranei, che non è più basata sulla conoscenza diretta e la comunicazione diretta, ma sul fatto che entrambi condividono le stesse storie e quindi condividono gli stessi valori, le stesse regole di comportamento e possono quindi cooperare due medici, due insegnanti, due avvocati, anche oggi che non si sono mai conosciuti, che vivono agli antipodi, possono tranquillamente cooperare grazie al fatto che possiedono un insieme di competenze, un'identità professionale comune. Pensiamo che questo signore, che più o meno dovrebbe essere l'uomo erectus, che è perfezione agli utensili di pietra realizzati dall'homo habilis, per due milioni di anni e non cambia nulla nel suo comportamento o perlomeno da quel che sappiamo, nel modo in cui costruisce i suoi utensili, due milioni di anni. Mentre con l'homo sapiens, in poche decine di migliaia di anni, abbiamo invenzioni scoperte di nuovi strumenti, abbiamo il commercio, abbiamo le migrazioni, cioè l'evoluzione subisce un incremento enorme e l'evoluzione culturale, grazie alla narrazione, bypassa quella biologica, avviene sempre nell'ambito di quella e dei limiti imposti dall'evoluzione biologica e genetica, ma il ritmo crescente dipende dal fatto che l'uomo è capace, grazie alla narrazione, di modificare rapidamente il suo comportamento e di cooperare su larga scala. Nascono gli imperi, nascono le città prima, gli imperi, decine di migliaia, centinaia di migliaia, di milioni di persone che sono in grado di cooperare. E non solo cooperare nelle attività pratiche, che sono la caccia, ma anche, come nella battuta presa prestito da Totò, cominciano a porsi delle domande religiose e filosofiche, ma per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare. Se quindi, grazie alle storie che è possibile quella comunicazione a distanza che fonda l'agire cooperativo di numerevoli individui in vista di uno stesso fine, allora possiamo dire che il passaggio da quello stato di natura che molti filosofi come Hobbes hanno immaginato fosse fondato su un contratto sociale di tipo giuridico, in realtà sia fondato su un contratto narrativo. E questo, grazie appunto al potere della voce. al potere della voce che crea nella Genesi Yahweh per creare usa la voce di Odisse sia la luce e la luce fu una creazione dal nulla ma non del tutto c'era la sua voce, la voce di Yahweh. Una voce capace di creare dei mondi e stessa funzione creatrice troviamo nella voce umana e nell'uso narrativo della voce umana. nascono così quei costrutti sociali, giuridici, gli oggetti sociali come lo stato, la chiesa, l'esercito, la nazione che sono il fondamento dell'organizzazione sociale potremmo dire dagli spiriti tribali al bitcoin. Insomma, potremmo quasi dire che grazie alla voce abbiamo creato dei mondi virtuali che sono stati per decine di migliaia di anni hanno rappresentato l'ambiente in cui ci siamo mossi molto più diffusi, molto più potenti e molto più pervasivi e quotidiani che non la VR, la realtà virtuale o la realtà aumentata o tutti quegli altri meravigliosi spazi che ci stanno aprendo queste tecnologie e questi dispositivi. Ma dopo questa introduzione tra il metafisico e il narrativo torniamo al nostro audio digitale. Bene, l'audio, la digitalizzazione dell'audio attraverso il campionamento e il passaggio quindi dall'analogico al digitale e il web 2.0. L'unione di queste tre dimensioni e la digitalizzazione del suono che cosa consente? Bene, noi possiamo compiere tutte quelle operazioni come la registrazione, il montaggio e la pubblicazione dell'audio in modo tale che siano alla portata di tutti. Mentre prima occorrevano studi di registrazione, competenze specialistiche molto particolari, adesso chiunque può compiere con un semplice dispositivo come può essere uno smartphone, queste operazioni con uno smartphone posso quasi immediatamente e in modo estremamente semplice registrare la mia voce, posso anche aggiungere qualcosa, per esempio dei tag, per esempio un titolo, prendere una descrizione, aggiungere dei suoni, eccetera, e puoi pubblicare in modo immediato tutto online direttamente. Ma quando comincia tutto questo? Bene, tutto questo in un certo senso comincia negli anni 90 con la diffusione di internet ma è solo con la nascita all'inizio del ventunesimo secolo del web 2.0 e la diffusione dei dispositivi mobili che diventa veramente una pratica alla portata di tutti. E questo cambia cambia completamente il sistema comunicativo che ruota attorno all'audio in questo caso ma anche al video al testo eccetera. Prima di tutto l'autorialità l'utente da fruttore passivo di contenuti che venivano anche su internet all'inizio pubblicati da pochi secondo un modello che somiglia più al broadcast a quello della trasmissione televisiva dove abbiamo un unico soggetto un unico ente che trasmette un contenuto per esempio la radio e gli altri sono soltanto destinati ai passivi di questo contenuto a quelli che oggi vengono definiti UGC con un acronimo inglese cioè user generate content contenuti generati dagli utenti quindi tutti diventiamo autori fruitori e autori al tempo stesso la possibilità anche di collaborare e quindi di collaborare e quindi di produrre in modalità collaborativa questi contenuti anche audio e quindi abbiamo la coautorialità poi abbiamo una condivisione cosa che c'è sempre stata per carità l'abbiamo appena visto la storia la voce usata come strumento per creare mondi fittizi e per operare la condivisione però certamente attraverso il web la condivisione diventa più rapida più semplice e soprattutto abbiamo come come uditorio il mondo intero la partecipazione l'interazione tra gli utenti il formarsi di comunità di interesse o di pratica intorno a un determinato tema per esempio intorno a un determinato web radio il formarsi di gruppi online di discussione di dibattito tramite l'audio sono molto più semplici e inoltre abbiamo a disposizione dei software e dei webware cioè delle applicazioni cloud delle applicazioni online che sono estremamente semplici piuttosto facili da utilizzare e che spesso sono free cioè possono essere utilizzate liberamente o comunque sono freemium cioè possiamo utilizzare una versione di base che spesso è del tutto sufficiente per quelle che sono le esigenze per esempio quelle di tipo educativo cerchiamo di vedere adesso che cos'è un podcast ci sono varie interpretazioni partendo dal nome podcast per esempio ipod che era il dispositivo il lettore di mp3 della apple più broadcast che vorrebbe dire trasmissione quindi una trasmissione che possiamo radio che possiamo ascoltare attraverso un dispositivo senza essere collegati online trasmissione audio ma anche video che è registrata digitalmente il formato principe lmp3 e che è distribuita su internet utilizzando la tecnologia dei feed rss feed vuol dire flusso quindi flussi di informazione che vengono automaticamente caricati grazie a un programma che viene detto aggregatore vengono automaticamente caricati nel nostro pc senza che dobbiamo essere noi ad andare nei vari siti e scaricarci la musica quindi il podcast implica il download cioè lo scaricare automaticamente un file audio in un dispositivo per esempio un pc un portatile un tablet senza che noi interveniamo perché avviene questo automaticamente è una tecnologia che viene molto vecchia che viene messa a punto per facilitare la navigazione e le operazioni non siamo noi a dover cercare la musica la musica o comunque l'audio che viene a cercare noi possiamo abbonarci a certi siti prima una trasmissione radiofonica e le puntate che non possiamo ascoltare verranno scaricate automaticamente e le possiamo ascoltare in un secondo momento pod secondo un'altra versione vorrebbe dire anche personal on demand e quindi programmi contenuti che vengono scaricati on demand in modo personale perché siamo noi a decidere cosa vogliamo che venga scaricato e cosa no diciamo che questo è il senso più tecnico del termine podcast ma ormai viene utilizzato semplicemente per indicare una trasmissione radio che viene diffusa attraverso il web nel link che ho messo sotto trovate un vecchio articolo addirittura del 2006 come dicevo una tecnologia piuttosto antica tra virgolette per la rete in cui è spiegato in modo molto semplice quanto anche io vi ho detto ma vediamo in concreto qualche esempio di ciò che io posso fare col suono digitale bene il caso più immediato è quello di registrare con lo smartphone sono in classe posso registrare una mia lezione posso registrare o fare la radio cronaca di ciò che sta avvenendo in classe si può usare il registratore per raccontare qualcosa e via dicendo una volta che noi abbiamo registrato con il nostro smartphone possiamo o direttamente dallo smartphone o dopo aver rielaborato il file mp3 generato dalla registrazione digitale possiamo caricare sul web il nostro file mp3 per esempio posso usare drive o posso usare dropbox o posso usare one drive insomma qualsiasi servizio di archiviazione online di un contenuto che mi permette di caricare un file e poi di ottenere il link di quel file per poterlo condividere con altri oppure possiamo utilizzare un software come audacity per registrare e per montare quindi possiamo realizzare una vera e propria trasmissione radiofonica con la sigla i vari stacchetti le varie parti del programma la sigla finale i credit per esempio eccetera e montarlo appunto con un software adacity per esempio è un software open source che quindi si può usare liberamente che non è troppo complicato inoltre esistono molti video tutorial in italiano alla portata di tutti e per tutte le esigenze oppure forse la cosa più semplice è la web radio vedremo degli esempi di tutte queste cose di queste tipologie diciamo così che vi sto raccontando la web radio che è una pagina web con una bella grafica un bel layout una bella impaginazione di cui non dobbiamo assolutamente preoccuparci in cui noi possiamo caricare i nostri file mp3 che vengono poi ascoltati dagli utenti in streaming che non è la stessa cosa del podcast perché lo streaming implica che noi siamo connessi a internet e ascoltiamo scaricando da internet un file audio un file video per esempio vediamo esempi dei primi due casi sono esempi tratti dalla mia attività didattica ma insomma tantissimi colleghi fanno queste cose ecco questa per esempio cliccando si aprirà un file mi collego a Pearl Tree ecco qui abbiamo due lezioni su Parmeni delle lezioni di filosofia e io cliccando posso far partire il file audio cliccando qui partirà il file audio questa è una lezione registrata come dire in diretta che poi ho messo online usando Dropbox in modo da poter condividere con i miei studenti questa lezione così se la possono riascoltare a casa niente di eccezionale per carità però può essere una cosa utile o poi usato per tri che serve per archivare ordinatamente i contenuti in modo da far sì che i miei studenti potessero trovare facilmente senza che ogni volta gli dovessi dare il link potessero trovare facilmente questo file vedete queste sono tutte lezioni di filosofia o storia della filosofia antica posso navigare e trovare facilmente le lezioni che possono essere video lezioni come in questo caso o audio lezioni come nel caso precedente questi sono degli audio appunti realizzati dagli studenti una sorta di vedete questo è ospitato su google drive lo studente ha realizzato questa sorta di audio riassunto audio appunto e l'ha condiviso con i compagni su google drive adesso non vi farò ascoltare tutti gli esempi comunque poi nel box descrittivo del video che pubblicherò su youtube inserirò anche il link a questa presentazione queste per esempio sono valutazioni e sono gli studenti le mie alunne che valutano delle lezioni che erano state fatte dai loro compagni così si abitano a valutare gli altri è importante che registrino la voce condividano questa valutazione e poi magari si può anche aprire una discussione oppure verifiche audio può essere utile riascoltarsi a casa per capire cosa è andato bene cosa non è andato bene a volte è molto difficile proprio con gli studenti che hanno maggiori problemi nel linguaggio nella competenza espressiva eccetera far loro capire cosa non è andato bene ma ho detto tutto e spesso dicono e quindi può essere utile registrare adesso per motivi di privacy queste sono vecchie registrazioni non lo faccio più faccio registrare dallo studente stesso sul suo smartphone la verifica sperando che poi si riascolti a casa ecco questi come si vede sono usi molto diversi l'uno dall'altro che ci permettono anche di capire quale sia la facilità d'uso dell'MP3 del file audio che la sua duttilità dal punto di vista didattico lo possiamo utilizzare per tantissimi scopi differenti in relazione a tantissime situazioni ed esigenze differenti quasi tutti i file che trovate qui e le registrazioni che trovate qui sono prese con lo smartphone e immediatamente postate su YouTube chiedo scusa sul web tranne alcune lezioni adesso non so se proprio queste o altre in cui ho usato Audacity per ripulire il suono magari o per inserire un titolo in modo da capire con che cosa si ha a che fare questo è Audacity è uno strumento dicevo open source come vedete molti dei comandi sono abbastanza familiari per chiunque insomma abbia usato strumenti di riproduzione del suono anche altri il volume del microfono il volume degli speaker degli altoparlanti eccetera altri invece sono molto più complicati basta vedere il menu possiamo fare varie cose varie attività applicare vari effetti eccetera eccetera naturalmente per l'uso che può fare un insegnante o uno studente un uso basico diciamo così le cose sono abbastanza abbastanza semplici basta seguire qualche video tutorial e si impara un uso più sofisticato invece richiede più tempo per apprendere l'utilizzo del programma torniamo alla diapositiva precedente qui c'è un link un archivio una raccolta di esempi e di altre risorse sull'audio digitale nella didattica che ho creato vedete sono vari link anche questi sono ordinati in sezioni differenti qui abbiamo articoli webinar post che trattano dal punto di vista didattico e teorico del podcast e dell'utilizzo del podcast qui abbiamo applicazioni che possiamo usare nel podcast e qui abbiamo esempi che potremmo prendere a modello diciamo buone pratiche di uso della web radio nella didattica per esempio questa è la web radio di un istituto comprensivo di Roma vedete qui abbiamo un episodio intitolato tutto cambia qui abbiamo gli altri episodi guardate quanti per ascoltare un episodio basta cliccare si possono inserire commenti e si può ascoltare cliccando qui una trasmissione breve di 2 minuti e 45 possiamo ascoltarla dal punto che più ci interessa esprimere il nostro gradimento condividere eccetera e questo è Spreaker un'applicazione che vedete mi dà una cornice in cui inserire i file audio tutto quello che io devo fare è semplicemente caricare un file un altro esempio è il podcast di Annarella Perra e dei suoi studenti Annarella da tanti anni sperimenta l'uso del podcast insegna lettere antiche e vedete abbiamo una bella impaginazione una grafica molto semplice da realizzare e poi abbiamo vari episodi varie trasmissioni in cui si parla dei miti greci si parla della voce si parla dei greci docent imponate la forza delle parole insomma sono trasmissioni spesso curate dai ragazzi che possono essere pubblicate e condivise con tutta l'utenza del web il podcast è un eccellente strumento rispetto a forse tutte le altre tipologie di tecniche e tecnologie che possiamo adottare in ambito didattico anche per risolvere un problema che è il problema di fondo che è il problema base che ha tante discussioni tanti dibattiti tante polemiche ha dato luogo con il solito formarsi della schiera degli apocalittici contrapposta come un esercito schierato in guerra all'altro esercito la schiera dei cosiddetti integrati per usare questa dicotomia proposta a Umberto Eco tanti anni fa il problema è quello del rapporto tra le tecnologie e la didattica un problema grosso di cui siamo tutti i docenti che usano le tecnologie sono consapevoli ma spesso nella pratica si rischia di slittare verso dove non si dovrebbe almeno a mio modo di vedere e cioè il problema dicevo di integrare le tecnologie della didattica non il contrario non è la didattica a doversi adeguare al passo e alle modalità di funzionamento delle tecnologie ma è esattamente il contrario eppure il rischio che si corre quello che si fa in tanti casi si veda la religione della LIM di qualche anno fa con l'idea quasi un dogma religioso a cui scredava per fede che bastasse la mia introduzione di questo utile dispositivo per carità per migliorare automaticamente e magicamente la didattica ecco quindi inseguire le tecnologie non solo è una gara impossibile perché vanno troppo veloci per noi e crolleremo al suolo esausti ma è anche sbagliato sul piano pedagogico e genera quello che potremmo definire il mostro per usare questo linguaggio colorito di una didattica guidata dalle tecnologie cosa che capita spesso capita spesso perché queste tecnologie meravigliose si pensi alla realtà virtuale si pensi ai mondi virtuali che possiamo costruire con Edmondo Minecraft Aurasma eccetera si pensi alla realtà aumentata e a tutto quello che si può fare ecco spesso ci lasciamo prendere la mano e adottiamo una tecnologia non perché ci serve davvero nella didattica ma perché ci piace perché è bella perché è meravigliosa e lo è davvero per cui benvengano tutti coloro che ne sperimentano gli usi compresi tutti quei bravissimi colleghi che stanno sperimentando i possibili modi di impiego e utilizzo di queste tecnologie nella didattica ma trovare il giusto equilibrio tra tecnologia e didattica non è affatto semplice richiede competenze di un certo tipo e spesso comunque ci lasciamo come dire prendere la mano dalle novità dell'iTech il nostro entusiasmo si accende e ci ingegniamo di trovare il modo di inserire forzatamente in ambito educativo la tecnologia o peggio ancora di uniformare la nostra didattica quelli che sono i codici le modalità di impiego della tecnologia insomma si tratta di passare dalle TIC alle TAC cioè dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione le tecnologie dell'apprendimento della comunicazione sono la stessa cosa sì e no sono la stessa cosa ma è un modo diverso di guardare alle tecnologie quello che io vorrei esprimere con l'acronimo TAC l'imperativo è quello di apprendere con le tecnologie non quello di apprendere le tecnologie o peggio ancora di apprendere secondo le tecnologie è chiaro che si richiedono competenze digitali da parte nostra e degli studenti spesso né noi né i nostri studenti nonostante si parli tanto dei nativi digitali hanno queste competenze e quindi bisogna svilupparle bisogna anche apprendere queste maledette tecnologie o benedette tecnologie però l'importante è che dobbiamo apprendere con le tecnologie cioè dobbiamo porci domande del tipo ma io e i miei studenti siamo in grado di utilizzare questa tecnologia non è che per imparare a usarla impieghiamo più tempo di quello che è poi il tempo di apprendimento dei contenuti che vogliamo veicolare o delle competenze che vogliamo veicolare con questa tecnologia può esserci d'aiuto non affrontare i nostri problemi può farci fare qualcosa farci ottenere dei risultati che non potremmo conseguire in altro modo quali requisiti richiede l'uso di questa tecnologia favorisce le finalità e gli obiettivi formativi che ci siamo posti viene incontro le esigenze concrete dei miei studenti o magari sto perdendo tempo mi permette di sviluppare a seconda dei casi che so l'autonomia il pensiero critico la creatività e così via ecco perché la voce digitale è un ottimo punto di partenza per abituarci a integrare correttamente le tecnologie nella didattica proprio perché è una tecnologia molto semplice cioè dal punto di vista tecnologico come abbiamo visto è molto semplice creare un file digitale un file audio digitale pubblicarlo creare una web radio inoltre è una tecnologia primitiva primitiva non solo nel senso che è molto antica antichissima la voce in quanto tale ma anche viene prima e più originaria di altre tecnologie e quindi il suo utilizzo i codici con cui noi costruiamo le varie tipologie di comunicazione vocale vengono in qualche modo prima sono in qualche modo propedeuci propedeutici ad altre tecnologie inoltre è molto versatile non c'è bisogno di soffermarsi su questo punto con la voce possiamo parlare di qualsiasi cosa compiere tantissimi tipi di azione interagire domandare pregare descrivere documentare raccontare e via dicendo è forse lo strumento la voce lo sappiamo per un'esperienza plurimillenaria lo strumento più versatile che abbiamo inventato inoltre proprio per questo le sue caratteristiche la voce e quindi la voce digitale in questo caso si adatta a tantissimi approcci si adatta a quella didattica situazionale che è forse l'obiettivo per tanti motivi ideale cui tendere perché permette una maggiore personalizzazione una maggiore autonomia è centrata sullo studente eccetera cioè partire sempre da quella che è la situazione concreta nella quale ci troviamo ad operare con i nostri alunni per scegliere di volta in volta gli strumenti come impiegarli come equilibrarli come sintonizzare e modificando di volta in volta e continuamente ciò che facciamo ecco la voce è congeniale a tantissimi approcci di tantissimi tipi va bene per la personalizzazione va bene per il bio va bene per la didattica capovolta o per meglio dire blended insomma metodi approcci di vario tipo possono tranquillamente essere supportati o avere nella voce digitale nella web radio un valido supporto tanto per avere un'idea in questo padlet sto raccogliendo delle idee per l'uso dell'audio nella didattica per raccontare una storia per intervistare un familiare un'audio lezione il diario di scuola intervistare un compagno vari tipi di audio racconto il mondo finirà nei prossimi 10 minuti cosa fai? oppure registra la tua voce che racconta in pochi minuti una giornata di scuola oppure ricavare una storia da una musica oppure recitare i proverbi insomma questi sono soltanto 15 ma potrebbero essere centinaia le idee che mi permettono di sperimentare l'uso della web radio dell'audio digitale della voce digitalizzata nella didattica tornando alla raccolta podcast audio digitale web realizzata a Supertree qui trovate vari articoli anche alcuni articoli miei ma soprattutto un articolo di Alberto Pian che è un po' quello che per primo in Italia ha forse sperimentato l'uso educativo del podcast ormai da tanti anni Paolo Aghemo qui trovate una sua presentazione e trovate anche un bellissimo podcast un bellissimo webinar in cui ha spiegato in modo eccolo Paolo Aghemo ha spiegato in modo dettagliato come costruire un podcast come creare una trasmissione e così via anche da un punto di vista tecnico cosa che non sarei in grado di fare diciamo che qui potete disporre di una sorta di percorso teorico da affrontare anche autonomamente per approfondire i vari aspetti del podcast e della web radio concludiamo questa lunga presentazione con quelli che sono velocemente gli obiettivi sul piano di conoscenze competenze e abilità che utilizzare l'audio digitale ci permette di conseguire beh io direi come primo obiettivo e ce n'è davvero tanto bisogno imparare ad ascoltare soprattutto imparare ad ascoltare ma anche imparare a parlare se vediamo come si parla e come si ascolta in certi programmi televisivi proposti insomma da mass media come media come la tv ecco c'è molto da lavorare anche se non si non sembrerebbe ma c'è molto da lavorare quindi lo metterei come primo chiedo scusa come primo obiettivo poi la media education di cui oggi si parla tanto perché viviamo immersi nella ipermedialità transmedialità chiamiamola come vogliamo dove tutti i media si intrecciano si incrociano tutti i codici si integrano e occorre veramente una competenza di base almeno per essere consapevoli e avere un approccio critico con con questo mondo mediale all'interno del quale viviamo naturalmente le competenze digitali perché dobbiamo per esempio imparare a pubblicare online gestire una app registrarci a un servizio usare secondo il principio del combinare insieme l'uso di tante app mesh up tante app insieme appunto insomma si tratta di competenze digitali di base che sono molto importanti e poi le tanto conclamate ma fondamentali soft skill che nella scuola insomma da sempre sono strategiche saper collaborare saper comunicare gestire il proprio rapporto con gli altri gestire i conflitti saper organizzare un'attività saper gestire la propria per esempio attività di apprendimento divenire autonomi sono tutti obiettivi che spesso noi mettiamo nelle nostre programmazioni disciplinari del consiglio di classe dipartimentali eccetera bene tutti questi obiettivi possono essere conseguiti come spero sarà compreso dagli esempi che ho fatto anche utilizzando l'audio digitale la voce digitalizzata la voce ma anche il suono ma anche la musica ma anche la canzone eccetera vi ringrazio per la pazienza e vi saluto e vi auguro buona giornata